Ciao amiche e ciao amici, questo video è un po' diverso dal solito legato a una situazione che ho letto diverse cose. Parla di ragazzi giovani tra diciamo i 18 e i 29 anni addirittura, ma il grosso concentrato intorno ai 20 anni, insomma questi 20 anni che non lavorano, non lo cercano neanche il lavoro e non studiano. In realtà vivono in modo apatico, con bassa demotivazione. Ora perché capita questo? Beh sicuramente ci può essere diciamo una situazione contingente legata al fatto che magari è più difficile trovare un lavoro, ma sicuramente c'è una motivazione più profonda legata alla mancanza di un desiderio. Perché noi nella nostra vita possiamo tollerare di tutto, ma non tolleriamo la mancanza di un oggetto di desiderio. Dobbiamo imparare a coltivare una passione. Soltanto se impariamo a coltivare una passione riusciamo a svegliarci al mattino motivati. E uno dice, beh ma perché devo coltivare una passione per il lavoro? Perché il lavoro o comunque è un modo per interagire, diciamo, per esprimersi nella società. E qualunque lavoro può dare, diciamo, una motivazione, per così dire, importante. Anche i lavori che apparentemente potrebbero sembrare più insignificanti. Tipo, non so, a me viene in mente sempre il casellante dell'autostrada, che uno trova il lavoro più noioso di questo mondo. Ma anche facendo il casellante al casello dell'autostrada, hai possibilità di interagire comunque con molte persone. Hai possibilità, ad esempio, di cogliere lo sguardo delle persone che sono dentro l'auto. E di renderti conto che magari facendo un sorriso tu, una battuta, qualcosa, riesci a stimolare qualcosa nell'altra persona. Comunque ogni situazione che uno vive deve essere motivato. E la motivazione va trovata dentro di sé. Questi ragazzi di vent'anni che non cercano lavoro, si arrendono alle prime difficoltà. E purtroppo io credo che sia molto dovuto al tipo di imprinting che hanno vissuto. Cioè nel senso che non si sono allenati a vivere le difficoltà. Si racconta che in un monastero del Tibet i ragazzi, i nuovi diciamo monaci, i ragazzi quindi di 18-20 anni, venivano, diciamo, avevano l'incombenza di prendere, siccome non c'erano delle tubazioni di acqua che portavano l'acqua negli appartamenti, anche al quarto o quinto piano, diciamo così. Ma c'era il rubinetto dell'acqua, diciamo, che era nel cortile. E questi ragazzi, i nuovi entrati, dovevano, diciamo, ogni giorno caricarsi 25-50 kg d'acqua sulle spalle e portarseli su fino al quarto, al quinto piano, per distribuirli, diciamo, nei vari alloggi, insomma. E uno chiese, ma perché non si mette un sistema di rubinetti, diciamo, per portare l'acqua fino in cima? La tecnologia non è, diciamo, è una tecnologia basilare, no? Quindi è anche poco costosa, per cui si può fare. E la risposta fu che, certo, farlo era facile, ma sarebbe stato diseducativo, perché è fondamentale a quell'età imparare che per le cose fondamentali della vita bisogna impegnarsi. Perché se uno non si impegna nelle cose fondamentali, come avere l'acqua a disposizione, difficilmente poi si impegnerà per altre cose. Quindi l'addestramento della mente, la capacità di affrontare le situazioni, di risolvere i problemi, va allenato. E molti genitori sicuramente non hanno fatto questo con gli attuali ventenni. Hanno cercato di compensare queste loro lacune, impedendoli di fare dei sacrifici, che però sono un allenamento. Il sacrificio non è un qualcosa di finalizzato a se stesso, è qualcosa che poi va superato. Ma è un allenamento che in quella particolare fascia d'età è molto importante perché permette alla persona di temperarsi, di forgiarsi, di capire che, come dire, lo sforzo porta comunque dei risultati, la perseveranza porta comunque dei risultati. Se non c'è questo allenamento, uno dice, mando tre curriculum in giro, se non va, boh, non riesco a fare niente, poi no, studiare non mi piace, e si passa il tempo in modo apatico. E quindi diciamo che bisogna ricreare una situazione di difficoltà. Cioè per far uscire queste persone, questi ragazzi da questa situazione, bisogna metterli in difficoltà. Perché in questo modo viene fuori il loro istinto, anche forse anche l'istinto di sopravvivenza, ma viene fuori e gli darà una svolta che gli permetterà di riuscire a superare questo impasse. Bene, per questo video è tutto, erano solo alcune considerazioni, diciamo un po' diverse dalle altre. Comunque, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere poi un video di risposta. E se questo video ti è piaciuto, ovviamente condividilo sui tuoi social. Ciao!